E salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale e eccoci con I'm Alive, probabilmente questo sarà il nostro ultimo episodio, oggi andremo a concludere il gioco perché sicuramente siamo alle battute finali e non ci resta che trovare Mei perché per la seconda volta Mei è stata di nuovo rapita e quindi adesso dobbiamo recuperarla. La cosa brutta è che abbiamo dato la nostra pistola a sua madre per difendersi e noi invece siamo cazzuti e ci difendiamo solo con un arco, allora dobbiamo entrare qui nella luna park però non si può entrare quindi presumo che devo scalare da questa parte, ok, speriamo di recuperare un'arma da fuoco perché senza la pistola ragazzi mi sento nudo. Allora, vediamo un po' che c'è qui. Che cazzo! Ok, abbiamo recuperato anche la pistola, perfetto. Dai, fuori due. Ovviamente è nascondato che dovevano stare soggettoni anche qua dentro. Qua c'è qualcosa che brilla. Tiro con l'arco, neanche la freccia? No, eh. Proviamo a salire da qua. Oh, aspetta, lì ce n'è uno. Prendiamolo di sorpresa. Perfetto. Poi. C'è qualcuno lì? Eh sì, c'è qualcuno. Cazzo. Ok. Vabbè, tutto sommato le stiamo eliminando in maniera abbastanza silenziosa. Porca puttana, quanti ce ne sono qui? Che cazzo, non li ho visti tutti questi. D'accordo, riproviamoci. Allora. Eliminiamo i primi due. Magari stavolta... risparmio le frecce. No, 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 no. Che cazzo? Ma che cavolo. Poi. Qua ce n'è un altro, vediamo se riusciamo a prenderlo di sorpresa. Ok. 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 Occhio Spara, spara Ok Carichiamoci prima che ci sparano di nuovo Ok Ok No, ok, non vedi niente, lascia stare Non vedi niente, via, via, via Un medikit Ce ne sono tantissimi comunque in questa zona Giustamente, sicuramente Se la Diciamo la battaglia finale È normale che c'è tutta sta gente Cavolo, sta salendo di qua Mica si è buggato Ok Ok Questo neanche se ne è accorto Buono Tantissime munizioni per la pistola Ottimo Sento, c'è quella pistola Fa' il culo Sì, a posto Pure quello corazzato Ci mancava E' un uomo 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 Che cazzo Quello ragazzi Io lo evito Ah, sei da hotel di Henry Neanche l'ho vista Dove cazzo sta Ah, è da questa parte Comunque Dai, vai, vai Abbiamo trovato la via Dai, dai Ecco me Mai Mi sono andato a guardare Tutto qua Sono molto felice Che sei ok Hai venuto per me? Ovviamente Sì, amore Non ti lascerò qui Ora, vabbiamo Andiamo a trovare la tua madre Ok Guarda Vai alla barca Un'ondazione Devo essere Di terreno Lui che poi sta lagando tutto Sei pronta per trovare la tua madre E lasciare questo posto? Io sicuramente Ehm Ehm Dai qua Sui bene Dovrebbe essere quella La madre Dovrebbe essere quella Hai trovato me Grazie a Dio Mami 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 Arrivo, arrivo Ehm Aspetta Ce la faccio saltare di qua Mi sembra un po' troppo Lungo Vabbè Proviamoci Vai Ok Salta Tranquilla Mami Tranquilla Tu hai trovato Tu sei un miracolo Sviate questo? Quando niente altro Nel mondo funziona Come si è supposed Tu, mio amico Sei un miracolo Ehm Non so cosa dire Come on We should go The boat is coming Right Sì Però è tutto questo Noi nostra moglie E nostra figlia Non li abbiamo ancora trovati Ehm Da che parte? Di qua Vediamo la mappa Ok Ci siamo Tu guarda a Harry Là in fondo Signori abbiamo finito il gioco Obiettivo completato Sì Certo thank you Meg I'll make sure She knows It was from you Thank you For everything you did Take care You'll find them Julie E' meglio che questa sia Julie Che ha trovato il nostro equipaggiamento Ma non noi Signori che finale tristissimo Allora ragazzi Che dire Onestamente il gioco tutto sommato Non era malvagio Comunque un gioco bello vecchiotto E si sentono comunque i pensi degli anni Però mi è piaciuto La storia è stata veramente bella E non mi aspettavo questo finale A quanto pare il nostro protagonista Ci ha lasciato la pelle Visto che sul finale abbiamo visto Una ragazza, una donna Che presumiamo sia Julie, sua moglie Piagere davanti alla telecamera Il che comporta che abbia trovato la sua telecamera E di conseguenza Ha visto ciò che il suo marito ha fatto Per poterle trovare Però a quanto pare non c'è riuscito Però diciamo che Che in un certo senso Ha comunque salvato una mamma e una figlia Che non sono le sue Però comunque le ha salvate Stiamo parlando appunto di Mei e di sua madre Va bene ragazzi Io che dire Il gioco ripeto mi è piaciuto Spero che anche a voi questa serie vi sia piaciuta Voi mi raccomando come sempre Spolliciate, mettete like, iscrivetevi al canale E noi ci rivediamo sempre qui sul canale Con un nuovo video Un saluto da Bizaragaret Ciao Valeu